Che il destino di Renato Guttuso, protagonista del neorealismo pittorico italiano, fosse quello della denuncia senza riserve lo se vince anche dalla storia della sua iscrizione anagrafica. Nacque infatti il 26 dicembre del 1911 ma verrà iscritto nel registro solo l'anno successivo, il 2 gennaio, e per di più a Palermo per decisione del padre in aperta contrapposizione con l'allora amministrazione del comune siciliano. Padre che acquarellista dilettante certo influì anche sull'estro artistico del figlio Renato che a 13 anni già produceva le prime sue opere con per soggetto per lo più paesaggi siciliani e che a 17 anni lo troveremo già impegnato in una prima mostra collettiva. L'arte di Renato Guttuso legata all'espressionismo esprime tutto il suo disprezzo per le ingiustizie e per le prepotenze, un impegno sociale il suo che lo porterà anche alla politica diventando senatore per due mandati all'interno delle fila del PC dell'allora segretario Berlinguer. Tra le tante opere di Guttuso ricordiamo anche il manifesto, lo stemma, la bandiera del PC.